nuovo video siamo sempre a chicago andiamo a fare una delle missioni principali del gioco che è proprio qua vicino a noi facciamoci un altro giro per la città a eccoci arrivati allora recluta omar nella crew vincendo un ride nel deserto per lui un ride nel deserto ok quindi penso che andremo fuori città alex fai i bagagli vai a las vegas è una vacanza vero non proprio devi fare un favore a un mio collaboratore perché mi hai preso zoe è per lavoro lui è diciamo un esperto di logistica può far arrivare di tutto ovunque lo voglio nella nostra crew ha un nome omar mi abbiamo bisogno vi incontrerete lì l'auto l'ho caricata sull'aereo oppure me la teletrasporteranno magicamente a las vegas penso è l'amico di zoe non la metterei proprio così devi essere omar e se ti manda zoe sarai di certo bravo devi vincere una corsa per me ci ho scommesso molti soldi credi di farcela ok ok vediamo se zoe ha mandato un vincente zoe dice che per te sarà una passeggiata dimostralo eh ma questi viaggiano vai 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 Ok. Eh, devo ammetterlo. Te la stai cavando molto meglio di me. La sensazione di guidare sullo serrato è completamente diversa. Su questo punto di vista, secondo me, ha fatto un gran lavorone. Veramente sembra... Senti proprio la... La difficoltà delle... Non deludermi. Meglio che mi concentro. Bel lavoro. Zoe aveva ragione, soli te. Mi faresti comodo nella mia crew. Oh, certo. Ma Bel Zoe mi ha assegnato alle operazioni di New York. Perché New York? Lo scoprirai. A bientot Alex. Non significa che ho fatto tutto sto giro per niente? È la prima volta che mi fanno andare fuori prendendo un aereo. Fino adesso tutte le missioni erano qua in zona. Però ci sta. Almeno hanno fatto un piccolo cambio di... Eh, come si dice? Di location. Ok, anche questo è fatto. Proseguiamo con la seconda missione principale. Devo solo decidere quale. Me ne restano due, se non sbaglio. Siamo di nuovo a Chicago adesso. Allora. Io farei questa. Test driver. Così almeno... Si cambia un pochino... Vediamo qualcosa di nuovo. Ok, è un pezzettino, è un pezzettino. Mettiamoci in viaggio. Un pezzo di auto. Attenzione. E che palla! Un pezzettino, è un pezzettino. Ma pensa a te, sto ignorante. Adesso lo vado a prendere. Ragazzi, quella è Chicago. Guardate quanto siamo lontani. Spettacolo, eh? Che sensazione di libertà che da sto gioco. Adesso vado a prendere quell'altro pirla lì che mi è venuto addosso. La pagherà cara. Però mi va tipo una Ferrari. Sarà un po' difficile. Anzi, penso che il motronete sarà dall'altra parte del mondo ora. Mentre io sono ancora qua. Qua ci sono le famosissime quattro teste di... Non mi ricordo più. Sono ignorante. Però... Sarà un buon pretesto per andare in internet a controllare perché... Questi sono i fondamentali. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Grandi. Le quattro teste. Ancora qua. Maledetto. Ah, vuoi fare anche tu quella gara, eh? Ok, staffetta. Nuova auto per il contrabbando. Ok, quindi è sempre una missione da parte del malavitoso che mi ha ingaggiato. Sembra figo. Sei arrivato? Sono al volante. Cosa devo fare? Voglio usarla per il contrabbando e devo sapere cosa può fare. Portala al limite. Abbiamo un tempo stabilito per il percorso. Devo sapere se il nuovo mezzo ce la fa, non trattenerti. Ecco. Oh! Ok. Ho 20 secondi E basta? Ah no Poi mi danno più minuti Wow Ok Ah cavoli Qua Finisco in acqua adesso? No Forse no Che colori Che paesaggio ragazzi Che spettacolo sto gioco Ce la farai Si ce l'ho fatta Però non sono proprio soddisfatto Delle mie prestazioni Penso che farò un altro tentativo Tanto dura veramente poco La missione Argento Pensavo bronzo Perché mi sembrava di aver fatto Proprio schifo Ok Ho capito che devo rallentare Perché se vado a tavoletta Mi sfracello contro la casa Ok Vediamo se riusciamo a fare un giro pulito Era troppo perfetto Vabbè far niente Ancora un pezzetto Oh Questa volta oro Ho fatto un giro Ho fatto un giro Ho fatto bene Di quelli pulitissimi O quasi Ora sono soddisfatto L'ho rifatto volentieri Questo percorso Perché è breve e bello Oh Oh L'orso Ok Yarsh È una bomba Non dire altro Uno dei miei verrà a prenderla Grazie Ok Supremazia Questa la vedremo nel prossimo video E Quindi niente Vi saluto Se il video vi ci piace Iscrivetevi al canale E ci vediamo nel prossimo video Ciao